Ciao, sono Anna di Travel Fashion Tips e siamo a Naxos, ci ritroviamo davanti all'antico castello veneziano che sovrasta imponente tutta la città, dalle inquieturri è possibile ammirare a 360 gradi tutto il panorama e tutta la costa di Naxos. Abbiamo arrangiato proprio qui in un albergo diffuso allestito all'interno delle camere del castello da cui si diramano poi tutti i piccoli e piccoletti che sembrano dei labirinti pieni di negozietti, artigianato locale, in caglierie varie, molto buoni carini, adesso seguitevi e li andiamo a scoprire. Come vedete continuano così fino al porto. Come vedete continuano così fino al porto. tra stradine con negozietti di artigianato locale e stradine invece in cui è possibile trovare ristoranti, taverne, bar o semplicemente case abitarie. Resto creiamo insieme a due continuano i compagni, per quanto vuoi ci sono situazioni delle piere che con la montagna. Grazie a tutti.